computer, perfetto. Buonasera a tutti ragazzi, io per chi non mi conoscesse sono Andrea, ho 27 anni, abito in provincia di Milano, ho un'attività da sette anni circa, a marzo sono sette anni che ho un bartabaccheria e niente, ho iniziato questo percorso come voi l'ho iniziato praticamente a settembre, i primi di settembre e niente, diciamo che ho avuto la possibilità, nonché il piacere di stasera, come anche settimana scorsa, anche le altre settimane, di spiegare un po' in maniera un po' più semplice, ok, quello che ci insegna i nostri professori, perché diciamo che ce l'ho messa tutta, con tutto me stesso, a farmi il mazzo da quando sono entrato fino praticamente anche oggi, se apro il mio Google Chrome, se ero ancora su Wow, per studiare e in poche parole ragazzi andiamo a fare delle domande e risposte sulle cose che non abbiamo capito dei corsi che stiamo facendo, ok, e vi posso dare una mano tranquillamente, ok, quindi chi vuole partire si smuta con tranquillità ragazzi e potete chiedermi quello che volete dei nostri corsi. Aspetto volontari. Andre, io ti faccio tanto una domanda, allora io, te l'ho già accenato l'altra sera, non ho ben capito, nonostante insomma abbia guardato i video sulla spiegazione di, possiamo parlare anche di cripto, giusto? Sì, volendo sì, non c'è problema, diciamo che se è per quanto riguarda sempre della nostra formazione ai servizi, senza problemi. Ok, sì, allora guardando anche la spiegazione per quanto riguarda Relic e Binance, non ho ben capito come operare su Binance, nel senso che al segnale che arriva su Relic, io su Binance non riesco ad attivare le operazioni impostando lo stop loss e take profit. Ok, allora, vediamo un attimino se posso, allora, Binance, così almeno giustamente anche per chi non sapesse come si fa, si può fare... Sì, scusami, magari le mie sono domande basi e... No, ma guarda, te lo dico in sincerità, se riesco ad entrare subito, perché ho impostato il computer per quanto riguarda il trading, lo facciamo subito, altrimenti aspettiamo un pochino prima che finisce la lezione, lo facciamo. Allora, vediamo, aspetta, c'è la lezione, oddio. Per me la lezione, per me la lezione tutti gli stessi. Allora, ok, mi è arrivato il codice. Era un dubbio anche mio, sinceramente. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Ci sono quasi, ragazzi. Sì, sì. Dovevo vedere soltanto se questo Binance da internet supporta bene come l'applicazione del cellulare, perché tanto vale se ve lo faccio vedere da computer a cellulare, no? Sennò tanto vale che dopo lo faccio proprio vedere da cellulare. Allora, mercati, proviamo. Sì, dovremmo esserci. Ok, allora, condivido schermo, cos'è meno? Faccio vedere a tutti. Condividi schermo. Ok. Allora, questo qua sostanzialmente è un po' la pagina che trovate, ovviamente in formato ridotto, con meno informazioni, sul cellulare. Ok, ora cosa succede? Se avete il nostro, il grafico impostato da Binance, queste qua sono due medie che ho impostato io, ok? Che seguono una strategia del Forex adottata sulle cripto. Ora cosa succede? Quando devi comprare dal trezzo di Binance, tu cliccherai su Limite, ok? Inserisci il prezzo su cui vuoi comprare, in questo caso, Bitcoin, la quantità e fai comprare Bitcoin. Se invece tu vuoi impostare un Take Profit, ok? Tu farai vendi, sempre prezzo limite, ok? La medesima quantità che magari si è andato ad acquistare, ok? E, cioè scusami, il primo prezzo a cui vuoi andare a vendere, perdonami, è la medesima quantità che tu sei andato ad acquistare prima di questa operazione. Mi spiego. Mettiamo il caso che adesso Bitcoin è sui 36,117, giusto? Quindi se io penso che toccherà i 37, intendiamoci, qua scriverò prezzo 37.000, no? Non riesco a scriverlo, lo scrivi, scusami. Sulla destra. Tu sei col cellulare, magari se togli un po' di zoom dal cellulare lo vedi sicuramente. Sì, sì, ok. Ok, ci siamo. Ecco. Eccolo qua. Andrea. Sì, dimmi. Scusa, se io vado su Binance però, mi dà l'elenco delle cripto, io non l'ho mai fatto. Ok. Non so se vedi, tipo l'elenco così. Sì? Sì, sì. Tu clicca su una singola cripto. Ok. Cosa ti esce fuori? Grafico. Ok, perfetto. Quindi andrai su compra, ok, andrai su limite e non prezzo mercato. Sì, ok, lo vendisci solo. Ok. Metterai il prezzo, la quantità e comprerai bitcoin in questo caso, no? Ora, io devo impostare un ordine anche di vendita. Giusto? Quindi cosa succede? Io imposterò, aspetta un attimino che ve lo dico subito, vendi, ok, farò la medesima cosa, quindi il prezzo su cui voglio vendere è come se fosse, che ne so, 40.000 e la stessa quantità con cui sono partito a comprare. questo qua è molto, 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 molto più semplice rispetto al take profit e stop loss del Forex. Questo qua è soltanto da veramente copiare e incollare senza magari analizzare il grafico perché stiamo parlando di criptovalute in questo caso. Quindi ci affidiamo totalmente agli esperti per quanto riguarda Relic visto che abbiamo un'affidabilità che varia tra i un 87% fino a un massimo del 100% addirittura. Ok, ora torniamo sul mio grafichino. Allora, facciamo così ragazzi, io prendo una domanda che mi è stata fatta sul gruppo Telegram. Ok, aspettate che la vado a prendere. Dimonia che mi chiede vorrei una spiegazione semplice delle due linee ma ho già sentito il video di Fabrizio per quanto riguarda lo stocastico. Allora ragazzi, lo stocastico di Fabrizio ve lo faccio vedere tutti. È impostato con 10 al periodo percentuale K ralentamento 6 periodo percentuale D 3. Vedo dalla chat che mi scrivono ma dove ne metti le zoom sempre sul gruppo del di Telegram e praticamente come vado a interpretarlo questo indicatore? Ci sono, è vero, due linee. C'è una linea verde e una linea rossa. La linea verde è del flusso di per comprato. Quindi vuol dire che quando prende padronanza questa linea verde ok, rispetto la rossa vuol dire che i compratori stanno avendola meglio contro i venditori. Ok ragazzi? Quindi cosa succede? Ovviamente per chi ha domande sul momento si smuti pure ragazzi e mi chieda quello che vuole. Ora cosa succede? Quando invece la linea rossa prende dominio della scena contro la linea verde vuol dire che i venditori stanno avendola meglio contro i compratori. quindi già d'occhio nudo ragazzi possiamo già notare che prendiamo caso questa parte qua eccoci qua vedete che c'è stata una salita e c'è infatti lo stocastico verde che sale e c'è una grande discesa vedete che c'è un incrocio delle due linee lo stocastico scende e rimane sotto una certa soglia. per chi c'era nella nella zoom scorsa noterà sicuramente che ho aggiunto ok un indicatore ok questo qua che trovate subito sopra Mattia System che si chiama ADX ok io ti voglio fare una domanda al riguardo dopo infatti proprio sulla DX perfetto Axel va benissimo io inizio a spiegarlo poi chiedimi quello che vuoi ovviamente allora la DX lo vedete nelle lezioni di Enrico che è il nuovo formatore che abbiamo inserito praticamente inizi di gennaio ok la DX ci fa vedere che cosa se c'è la presenza o l'assenza di un trend perché ragazzi lo stocastico ok tante volte segna magari che sta crollando un prezzo vedete come magari in questo caso che mi viene subito guardate che ho sbagliato scusate eccolo qua mi vede lo vedo subito qua ok qua sembra quasi che c'è questo incrocio e sembra quasi che chissà quanto sta perdendo di forza il prezzo no invece se andiamo a vedere il grafico ragazzi il prezzo è variato di sì un po' perché siamo in weekly ovviamente però ha avuto uno sbalzino piccolino per così dire no quindi cosa succede la DX mi fa vedere sotto seguendo il livello 30 che vedete barrato con questa trend line con questa linea orizzontale scusatemi mi fa vedere che cosa che al di sotto di questo livello c'è assenza di trend quindi vuol dire che cosa che può esserci un falso allarme dello stocastico è importantissima questa cosa qua per usare bene lo stocastico sopra sopra questo livello vuol dire che c'è un trend ragazzi quindi vuol dire che sta avendo veramente forza la discesa o la salita del prezzo e lo vediamo in questo caso che tra l'altro fortunatamente avevamo già barrato prima come vedete c'è questa sorta di montagnetta ok non mi dà forza nella non mi sta dicendo che il prezzo sta crescendo mi sta dicendo che lo stocastico sta seguendo un trend che in questo caso è rialzista quindi quando c'è appunto il quando questa linea mobile supera il livello 30 della DX e vedo che lo stocastico sta seguendo un certo livello che varia tra 175 per quanto riguarda l'ipercomprato e lo 0 barra dallo 0 fino al 25 scusatemi per quanto riguarda l'ipervenduto ok vuol dire che posso andare tranquillamente anche ad operare soltanto con lo stocastico la DX senza bisogno magari che vado a vedere le medie mobili il Fibonacci e così via se qualcuno ha capito me lo dica subito ragazzi ok perfetto speriamo speriamo che sono stato bravo che nessuno si vergogna insomma puoi ripetere l'ultimo livello che avevi detto il livello 30 esatto allora il livello 30 quando viene superato dalla linea mobile vuol dire che c'è un trend ok quando è sotto vuol dire che c'è non c'è il trend se guardo lo stocastico vediamo che Fabrizio ci dice di segnare i livelli 100 75 25 e 0 notiamo che quando il le due linee mobili dello stocastico superano appunto il 75 il 25 ok c'è forza da parte dei compratori e dei venditori lo vediamo lo vedete tutto il mouse ragazzi in un senno qualsiasi persona perfetto lo vediamo in questo caso e infatti ha superato notevolmente il 75 ha toccato quasi il 100 lo vediamo magari in questo caso questa discesa e vediamo appunto che il prezzo ha toccato quasi lo 0 ok 0 a 100 non è la velocità con cui si muove il trend ragazzi 0 sta per hanno vinto i venditori e 100 sta per vincono i compratori ok se ci ricordiamo questo e ci ricordiamo che sopra il livello dell'ADX c'è un trend e sotto non c'è ragazzi siamo a metà dell'opera quindi adesso magari andiamo a vedere un attimino in tempo reale cosa sta succedendo con questo prezzo che franco svizzero contro giapponese allora come vedete ecco qua guardate sembra fatto opposta come vedete il livello dell'ADX ha superato il livello 30 quindi mi sta dicendo che c'è un thread in corso lo stocastico cosa mi dice che sta andando sempre di più verso lo 0 ma ancora non ha sfondato in maniera decisa il 25 ok però cosa posso notare ricordiamoci sempre che siamo in un time frame veloce che è M15 quindi le candele bisogna prenderle e non prenderle perché il pattern delle candele quando c'è un time frame veloce vediamo da tutte le parti impiccati vediamo da tutte le parti shooting star doji ok ci trae un inganno tante volte questi time frame veloci se addirittura andiamo in M1 vediamo dappertutto impiccati vedete qua qua cioè sono dappertutto quindi andiamo un attimino in M15 e vediamo che cosa che c'è un trend c'è un un trend in corso ribassista e lo lo si vede ad occhio nudo ragazzi lo stocastico mi sta dicendo che il prezzo sta uscendo dalla linea 25 quindi stanno vincendo i venditori ok e come notate magari facciamo un po' di zoom sta nascendo ad oggi per ora qualora si allunga diciamo verso il basso ok mi dà soltanto che forza la mia vendita in questo caso perché perché innanzitutto prima di questa candela c'è stato appunto un reverse hammer e quindi dà vita a un movimento ribassista vado a vedere le medie mobili le medie mobili sono belle staccate quindi di conseguenza non ci sta un incrocio quindi tra poco sicuramente non c'è un trend rialzista non nell'immediato perlomeno quindi vado a vedere lo stocastico lo stocastico mi dice appunto che deve superare il livello 25 a momenti è come se si fosse creata ve lo faccio vedere bene una resistenza sullo stocastico vedete quindi mi sta dicendo occhio che potrebbe rimbalzare però sta andando sempre verso il fondo vado a vedere la DX c'è un trend in corso ora vado a vedere Mattia System perché io devo raccogliere più informazioni possibili per andare in a mercato il Mattia System mi dice fermati non operare né in rialzo né in vendita né in ribasso perché c'è la fase di stallo che è nera ok ragazzi quindi torniamo un attimino indietro io vi faccio vedere come avrei affrontato questo grafico io lavoro in H1 per chi non c'era la scorsa volta ve lo dico io lavoro in H1 perché perché il mio lavoro appunto il mio bar tabaccheria mi assorbe quelle che sono 13 barra 14 ore giornaliere di lavoro quindi cosa succede non posso stare tutto il giorno col cellulare o computer ok devo convivere con tutte e due i miei lavori perché questo io lo considero un lavoro fatto e finito per me ok quindi ho un'operatività quasi multi day tendo a chiudere operazioni in otto ore in otto ore più o meno ragazzi quindi lavoro in H1 perché mi trovo comodo e riesco a dare in meglio di me diciamo perché la la sostanza per affrontare questo lavoro al cento per cento ragazzi è trovare la vostra la vostra operatività come un calciatore che deve trovare il suo ruolo ok perché non è detto che sappiamo tutti qual è il nostro ruolo dobbiamo scoprirlo io avrei fatto una cosa di questo tipo avrei preso il mio bel Fibonacci magari in H1 non mi basta provo in H4 vediamo un attimino sì mi basta linea più alta cioè prezzo più alto fino al prezzo più basso del mio grafico ok torno in H1 e ho scoperto che siamo in una fase lateralizzante del 37 di Fibonacci come vediamo ragazzi ok non c'è un incrocio delle medie mobili in che sta avvenendo ok perché sono belle distanziate lo stocastico mi dice che si è aperta una possibilità che adesso questo prezzo salga però la roba figa qual è che la DX mi dice no non c'è un trend effettivo che ti dica buy a mercato in buy e infatti se andiamo subito sotto al Mattia System siamo in stallo quindi io in questo momento ho appena scoperto che non posso operare voi dite eh ma cazzo allora quando è che opero eh micchia però non ho buttato via soldi giusto Axel dimmi la domanda che volevi fare però ti avviso subito che la DX è abbastanza nuova anche per me perché giustamente Enrico è da poco meno di un mese che è dentro con noi quindi se posso risponderti con volentia infatti da quando l'ho guardato l'ho aggiunto a molte strategie di Fabrizio e porta abbastanza a me eh te l'ho visto aiuta molto a non confondermi con lo stocastico infatti era questo però cioè tu hai detto copri con un H1 ma non operi mai tipo scalping non lo fai mai no scalping assolutamente no però posso dirti una cosa fare scalping con la DX secondo me dovrebbe essere una bella figata no perché cioè allora va abbastanza bene e lo utilizzo con le bande e con lo stocastico vabbè settato uso 80-20 cambia poco e uso anche la DX però faccio fatica a gestire l'entrata quando come posso dire cerco di spiegare tu fai uno scalping a M15 o uno scalping a M1 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 minchia adrenalinico in pausa pranzo ok ok allora beh guarda anche senza bande di bollinger qua ti posso dire che potresti fare allora ci sta per avvenire un incrocio delle mediamobili no c'è lo stocastico che praticamente ha rotto per così dire la resistenza del 75 sì ho la DX che praticamente sta superando la linea 30 livello 30 e esatto il Mattia System vedo che è indeciso perché adesso è nero però fino a prima vedevo che faceva anche verde però non riesco usare il Mattia System non lo uso perché appunto essendo a lavoro uso MetaTrader quindi uso appunto grafica, candele stocastico e adizio da cellulare il Mattia System non lo regge neanche però già così io potrei entrare tranquillamente in buy infatti vedi sta salendo no sì anche perché ci sono ah è vero con le medie no era perché ho difficoltà nonostante questi segnali quando c'è quella non voglio dire candela infame perché non è italiano però quando c'è quella candela che rompe però non so ti lascia indeciso sul movimento solo che appunto con le candele un minuto quale candela questa aspetta che aspetta se mi riesci a zoomare questa qua dove c'ho il mouse volevo trovare una candela che tipo rompesse ma non del tutto la media da fare un esempio vado indietro lentamente quando la trovi dimmelo che mi fermo ecco torna indietro aspetta aiutati magari con i giorni sotto lo schermo cos'è meno vado subito vai al al 27 gennaio 1955 su quella rossa quella rossa questa no quella dopo questa qua da dire per far finta che sia quella linea blu sia una banda ci sono delle candele che quando rompono così all'interno mi lasciano un po' un deciso detto che operando con un minuto me le vado a cercare perché esatto le candele ma perché sono un'ora lì che non mi faccio distrarre da niente però comunque non è facile entrare metti che l'haga un attimo la connessione se sono finito però sai cosa sto notando però sai cosa sto notando che è veramente figo in M1 che non facendo scalping non ho mai notato e quindi lo sto tra virgolette anche vedi anche adesso ho imparato ho visto una nuova cosa che dovevo notare prima che come vedi questa linea rossa dei cento periodi è come se facesse da resistenza ok ma questo già lo sapevo alle candele però la cosa figa che ho notato è che per fare scalping è l'ideale perché te le butta proprio giù cioè qua ragazzi abbiamo 15 pip e quando la sfonda è un segnale ovviamente buy come? è un segnale ovviamente buy esatto ovviamente buy esatto e quando la sfonda io sarei entrato ti dico subito a questa candela perché questo qua è una shooting star ok è vero che siamo in M1 non ci dobbiamo fare caso è vero però comunque la candela dopo la shooting star quindi la mia candela progetto come vedi ha un bel corpo che annulla tra virgolette la candela dominante dei venditori ok che c'è stata qualche minuto prima 5 minuti prima come se ci fosse appunto un scusate un è simile a un engulfing esatto però non è un engulfing perché è un M1 perché sono un po' di candele che lo separano esatto l'importante è che ci siamo capiti non male quindi io sarei entrato e fino adesso avremmo fatto un 3dcp sicuro inserirò le medie a 100 periodi dal computer almeno perché dal telefono non so se può reggere tutta questa roba però no ti ringrazio dal computer ci voglio provare dal cellulare sicuramente sicuramente puoi fare stocastico e puoi fare le due medie mobili la dx con cellulare non l'ho mai provato no dicevo perché io per fare scalping uso le bande uso le medie in operazioni e a proposito devo chiederti una cosa per un amico che non è riuscito a collegarsi se la strategia col breakout e le due medie col breakout e kinashi tu l'hai mai usata sugli indici l'hai mai provata eh guarda io ti dico la verità con gli indici io ci ho provato ma secondo me non è un'operatività giusta perché gli indici come l'oro come il petrolio sono dei dei prezzi che oscillano in una maniera pazzesca la più che scusate un attimo che ho il cane che è bello della diretta ragazzi scusate stavo dicendo gli indici più che tu puoi fare un'analisi tecnica sugli indici e devi farla sempre ma gli indici come sai sono influenzati a mio modesto parere e non sono nessuno al 90% dall'analisi fondamentale che hai tutti i giorni davanti agli occhi ok perché ieri infatti investi in punto com per far per far scalping bravissimo bravissimo perché ieri c'è stato Powell che parlava ok ed è successo il finimondo sia nelle valute che nei indici ok perché può esserci delle informazioni riguardanti il valore del dollaro dell'euro comunque delle monete di tutto il mondo ok delle valute di tutto il mondo che influenza il suo valore di conseguenza se influenza il valore di una valuta influenza anche le aziende dove risiedono quella valuta infatti ieri è successo veramente il finimondo ragazzi ti ringrazio mi hai risposto bene entrambe le domande meno male te ne farò me ne tengo altre per San Marino adesso mi muto ci vediamo a San Marino perfetto va bene mi fa piacere ragazzi chi altro non siate timidi ciao Andrea ciao Marzia ciao volevo farti una domanda in quale time frame ci consigli di analizzare pattern anche la morning star i mini star guarda io ho lavorato in H1 mi trovo da dio ok perché come vedi guarda te lo posso prevedere anche così inserisci forme rettangolo guarda abbiamo qua la doji infatti ha dato un'accelerata realzista avremmo fatto 30 pip oppure andiamo a cercarne altre forne rettangolo ok abbiamo un reverse hammer mi dà vita a un momento contrario del prezzo quindi era in salita reverse hammer discesa ora andiamo a cercarne altri guarda questa qua è una doji bellissima quasi shooting star quasi questa è una vera e propria shooting star anche se il corpo della candela è un po' più ribassato però come vedi è un momento ribassista quindi l'ha dato comunque vita poi io quello che sconsiglio non quello che consiglio quello che sconsiglio è quello di vedere i pattern delle candele a m1 m5 e anche cioè guarda questo qua era aspetta te lo dico subito allora questo qua il 19 gennaio in h1 ok ok sì più o meno è questo guarda qua in h1 ho visto che è una shooting star c'è una doji scusami infatti ho un movimento prima rialzista poi c'è stato la dominanza dei venditori con questo bearish e quindi ha dato un movimento ribassista però guarda qua in h1 appunto ho una doji se vado in m15 ovviamente ma non è che ho scoperto l'acqua calda ho questo tipo di grafico quindi come faccio a entrare a mercato dando un significato ad ognuna di queste candele è minimo il risultato che posso avere io magari quello che ti posso consigliare se vuoi lavorare in un time frame così veloci è di guardare solamente i pattern del bullish o bearish e gulfing quindi tu magari vai a vedere queste cose qua guarda questo ma che bello che è no oppure inserisci sempre forme sempre rettangolo eccolo qua anzi no questo qua non mi piace anche perché lo devo far vedere bene quindi giustamente andiamo a dare ecco guarda qua che bello guarda queste tre candele di compratori come prendono bene la scena è vero c'è una sorta di ritracciamento ma in verità è un caricamento da parte dei compratori perché come vedi il prezzo scende tocca il mio key level settimanale per poi schizzare e qua ragazzi avremmo fatto almeno e con almeno vi dico veramente minimo perché con un'operatività così io avrei senz'altro chiuso il mio take profit se non il primo almeno o il secondo e il terzo al prossimo key level quindi avremmo fatto 85 pip perché qua c'era soltanto dominanza da parte dei compratori e lo vedi anche da sia dallo stocastico che la DX e guarda il Mattia System dice che praticamente su dieci volte che c'è un colore è sette verde praticamente grazie mille grazie grazie a te invece avevo anche un'altra domanda per quanto riguarda il martello rovesciato ho visto le lezioni però ho visto che c'è sia all'insù che all'ingiù e io non riesco mai ad analizzarlo con l'ombra superiore e con l'ombra inferiore sia rosso che blu ok diciamo che sono due riversamenti di prezzi vivitela così è più è più semplice se ci pensi no? perché guarda vediamo se magari zoomando possiamo trovare qualcosa allora questo qua io non lo reputo né un martello né un piccato perché il corpo è fin troppo piccolo e infatti dà una continuità al al trend che ha questo questa oscillazione del prezzo reputo questo un bel martello rovesciato infatti il martello rovesciato dopo una dopo un periodo rialzista nasce una candela progetto che mi dice che il prezzo è in fase di stallo infatti come vedi in Mattia System se vado giù è nero ok esce il mio martello e allora sì posso andare in vendita diciamo alla fine del martello fino alla fine faccio 35p perché ricordati che tu il martello l'impiccato lasciato in stare la doji e così via tu non li vedrai mai fin quando loro non finiranno il loro processo di vita quindi ti aiuti col il come si chiama aspetto inserisci indicatori con il candel con town scusami quindi come vedi in questo momento tra due minuti e cinquanta secondi esce una nuova candela ok Marzia perfetto grazie ma di niente altri ragazzi dai siamo tutti simpatici qua non siate timidi nessuno io voglio fare una proposta andrei vai Miki eventualmente magari potremmo fare non so possiamo programmarci la serata per fare magari trading insieme cioè proprio fare delle operazioni insieme perché no assolutamente sì ma possiamo usare anche la prossima zoom organizzata con me senza problemi esatto io la trovo un'idea geniale grazie perfetto senza problemi ragazzi anzi io sono sono molto d'accordo su questa cosa esatto mi trovate totalmente d'accordo ma perché anche per me stesso perché se c'è qualcuno che magari mi può correggere su una operatività che magari faccio io senza problemi cioè io sono ripeto sempre io sono come voi non sono né Vincenzo Stasi né Marco D'Andrea né Fabrizio ma sto forti io ho fatto le stesse cose state facendo voi un po' prima e magari con un po' più di impegno nel breve termine ma sicuramente nel lungo termine mi sperate tutti comunque sì facciamo la giovedì prossima la facciamo senza problemi anzi sì sì sono veramente d'accordo così ci fai guadagnare un po' guarda lunedì devo iniziare con un conto un po' altino e me la vivrò un po' d'ansia però ci proviamo altri ragazzi se no smuto io Andrea una cosa elementare siccome vedo che in tanti ho calcolato i pips con la linea ma non ho visto non so se ho visto male si vede anche il totale dei pips come si fa assolutamente sì guarda praticamente nel caso se tu hai un mouse ovviamente la attivi con il tasto centrale del mouse quello che è il per andare su e giù insomma altrimenti i ragazzi la trovate qua di fianco all'icona del mouse ok qua in alto a sinistra ok esatto quindi tu cosa fai vediamo magari che vogliamo prendere quanti pip faremmo qualora ho fatto un'analisi e vedo che il prezzo tocca questo k-level settimanale e deve toccare l'altro k-level settimanale io tengo premuto il primo k-level vado fino al prossimo k-level e come vedi il prezzo centrale c'è scritto 622 ovviamente quello è un valore decimale quindi in conseguenza sono 62 pip cioè un guadagno di 62 pip assolutamente sì o una perdita però in buona sostanza è così ok grazie prego ovviamente ovviamente non dimentichiamoci che cosa che ce lo spread ragazzi quindi cosa succede come vedete qua in alto io lo lascio sempre magari me lo metto qua che si vede meglio è a 43 punti per ora anche quello è decimale vuol dire che sono 4 pip di spread quindi per fare quei 63 pip in verità io per chiudere 63 pip devo andare fino a 67 quindi fino a qua più o meno un po' di meno però più o meno siamo là così ok e vi consiglio di stare attenti allo spread chi lavora col computer sia per per aprire posizioni o chiudere take profit o chiudere stop loss con shift titan e compagnia bella perché tante volte quante volte ci si apre una una un'operazione che magari abbiamo impostato come pendente e non ci sia chiusa il take profit dell'operazione precedente tantissime perché perché non siamo mai attenti allo spread un spread ragazzi se esiste c'è un motivo di non stare attenti dai ragazzi gli ultimi dieci minuti se no smuto qualcuno a caso giuro è lo spread da dove lo vediamo su metatrader vicino alla valuta giusto sotto sì lo puoi vedere là sotto oppure fai inserisci indicatori personalizza spread e se non sbaglio magari andiamo a vederlo insieme se non sbaglio il buon Fabrizio vediamo ci lo mette nelle sue risorse se non sbaglio sì la seconda spread faccio vedere anche questa volta come si inseriscono questi indicatori ok quindi andiamo su wow scarico tutte le risorse di Fabrizio che sono queste qua con scritto scarica ragazzi si aprirà una tendina la tendina andiamo a fare un copio e incolla in una cartella sul desktop ok con tutte le medesime applicazioni che abbiamo scaricato andiamo su metatrader ok clicchiamo file apri scheda data clicchiamo mql4 andiamo ad aprire la cartella indicatori e andiamo ad incollarli qua dentro chiudiamo semplicemente la cartella chiudiamo metatrader riapriamo metatrader e poi andremo su inserisci indicatori personalizza e vedremo che ci sono tutti all'appello ok perfetto vediamo se riesco a lasciarvi dicendo un po' cosa può succedere a questo prezzo ecco guarda io lo consiglio di fare soltanto chi ha un conto demo chi ha un conto reale non voglio questo qua non è un consiglio finanziario ragazzi quindi non voglio sulla coscienza nessuno allora io entrerai in un mercato buy rialzista perché ha sfondato questo trend il prezzo 37.5 il livello 37.5 e il mio fibonacci che ho tracciato è nata una doji sì una shooting star anzi un corpo troppo piccolo per essere una doji una shooting star quindi dà un movimento di riversione del prezzo vado a vedere il mio stocastico il mio stocastico magari vado a aumentare un po' la gradazione mi dice che è incerto mi dice che è incerto quindi di conseguenza può sia alzarsi come scendere ok vado a vedere il mio il mio adx e per ora non c'è un trend io mi sto fidando solamente a quella shooting star oh ma ti assisti e mi installo io in questo momento non entrerei in buy io in questo momento andrei a fare un'analisi per entrare in buy quindi cosa facciamo ragazzi ci possiamo provare senza problemi andiamo a mettere un buy limit dove secondo voi vediamo chi vediamo chi me lo dice vai micchi vai micchi 123.87 123.87 quasi 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 io uso il 37.5 di fibo quindi lo metti a 123.97 sì 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 a 100 sì 95.3 97 esatto quindi andiamo a mettere io in questo momento sto usando un conto demo ragazzi nuovo ordine tipo esecuzione ordine pendente buy limit anzi in questo caso buy stop chi è che mi sa dire perché buy stop e non buy limit dai luciana non alzare le sopracciglia dimmelo perché non appena arriva lì dovrebbe continuare in buy no bravissima marzia bravissima quindi buy stop vado a mettere 123.953 devo anche che cosa mettere un take profit ok io non stop loss ovviamente perché chi opera con senza take profit senza stop loss non sta facendo un money management quindi andiamo ad analizzare come potrebbe evolversi la cosa ovviamente queste linee orizzontali sono sia settimanali che daily però io ho un'operatività scusante di mila h1 quindi devo andare a trovare altri che i level che qua non vedo quindi cosa faccio vado a tracciare delle linee orizzontali di un altro colore ovviamente che secondo me possono essere fondamentali vedete questa non era tracciata eppure è importantissima perché ci dice che non arriva là praticamente da quanto cioè ragazzi da tantissimo ok quindi questo qua potrebbe essere già un mio stop loss e il mio take profit potrebbe essere proviamo andare a vedere sì anche questo quindi andrei a fare 17 pip 18 sì dai mi può andare bene proviamo allora abbiamo detto compra vendita nuovo ordine ordine pendente buy stop al prezzo di 123.978 ok l'ho scritto perfetto stop loss metteremo 123.576 anzi andrò a fare vi dico la verità 123.700 perché almeno se perdiamo perdiamo il minimo indispensabile facciamo 650 via take profit vado appunto a mettere 124 punto 173 ok questo qua è un conto da 12.500 euro ok quindi cosa faccio adesso per aiutarmi e trovare una size corretta vado su shift vado su shift ragazzi vado su shift aspettate che c'è sempre questo bug che ancora non hanno sistemato mannaggia accesso ok allora 123.57 quindi a meno 25 pip più o meno allora vado a mettere che cosa prima di tutto come ha messo il mio come ha settato il mio conto quindi euro saldo del conto abbiamo detto 12.500 percentuale di rischio voglio usare lo 0.5 per cento del mio conto stop loss abbiamo detto che è a meno 25 ok vado a calcolare non me lo fa fare 0.5 però l'uno calcolare ok devo aprire un lotto da 0.65 0.65 posiziona in questo caso Andre lo stop loss è più più alto rispetto al profitto giusto no in teoria no perché l'ho messo a 700 in teoria è 1 a 1 adesso andiamo a calcolare insieme deve partire da praticamente 124 fa 17 quando fa 97 ah sì che pirlo fa praticamente 28 in meno allora facciamo fare meno 17 quindi sarà a 124 praticamente sarà 87 ok quindi ok 123 387 o almeno facciamo un rapporto rischio rendimento 1 a 1 87 big profit 173 giusto questo qua diventa 123 953 posiziona ok è partito cioè è partito l'ho impostato e lo troviamo qua la cosa figa del computer qual è che andando sopra queste linee tratteggiate mi dice già quanto posso perdere e se vado a cercare l'altra eccola là l'ho vista quanto posso invece guadagnare è qua sotto non me la fa vedere 111 euro quindi potrei fare 220 pip contro perdere 83 ok ragazzi vediamo domani se si apre e come si apre ragazzi io vi ringrazio di aver partecipato ci vediamo giovedì e vi auguro una buona serata grazie grazie mille ciao ragazzi ciao ciao andrea ciao ragazzi ciao